Senta, Pizzarotti, io spero per lei che vi chiariate, è importante per tutti, è importante che si faccia chiarezza. Poi però, insomma, la vita è la vostra, il destino è il vostro. La ringrazio però davvero di aver accettato il nostro invito. Ma in realtà non è il nostro. Posso dire una cosa? Il destino è il nostro. Esca la sua riserva. Il lavoro che facevo ed ero molto contento. Il tema è quello italiano. La domanda che mi pongo è, noi ci presentiamo, ci candidiamo ad amministrare l'Italia, avendo dato questa immagine in questa giornata, per un problema Movimento 5 Stelle, perché per me è noi, non è loro. Quindi, noi ci candidiamo ad amministrare l'Italia, avendo dato oggi questa immagine, per un problema che può essere un millesimo di quelli che potremmo avere se entrassimo veramente nel Palazzo del Consiglio dei Ministri. Vedremo. Ecco, io questa domanda mi farei nel lasciarvi. Ecco, io questa domanda mi farei nel palazzo del Consiglio dei Ministri.